Il sentiero di Castrù, ovvero anche il sentiero delle pecore maschio castrate, oppure il sentiero delle scritture, che poi ne vedremo anche il perché di questo secondo nome. Le prealpi orobiche fin dalla notte dei tempi è terra dei bergamì e non di pastori, e ne fanno fede le denominazioni e qualità dei suoi formaggi e il celebre taleggio. A parte dei caprini anonimi, famosi marchi di formaggi di pecora, che possono vantare secoli di storia, io non ne conosco. Non è perché i pascoli orobici non vanno bene per le pecore, è che da noi si preferisce allevare bovini. Per me, la pastorizia a Parre è stata importata dai romani quando strapparono questa terra ai celti. A Parre, inizialmente, l'allevamento delle pecore non contava molti capi, ed erano sufficienti i pochi pascoli della valle per il loro fabbisogno. Ma quando nella Val Gandino e altri luoghi della Val Seriana, che vediamo, grazie ai commerci si sviluppò la manifattura della lana, man mano che aumentava la sua richiesta, cresceva pure il numero dei pastori e greggi. Ma non solo a Parre, ma anche nei comuni di Rovetta e Bossico, che vediamo. Perché se prima si allevavano i capi sufficienti al fabbisogno locale, per sopperire alla richiesta di lana delle industrie, altre persone si diedero alla pastorizia. Ma siccome la terra a disposizione non era infinita, perché fra produzione di cereali, erba e fieno per le mucche, anche se poca, vi era pure una produzione di lino, legna per l'inverno, carbone di legna per fondere il ferro, e siccome la gente della valle andava aumentando di numero, terra disponibile non venera più. Ma fortunatamente, pascoli quasi infiniti furono trovati in Svizzera, sui monti della città di Coira, e altri al passo dello Spluga e del San Bernardino nei Grigioni, con i quali già da tempo la Repubblica Serenissima di San Marco commerciava, e che ne vediamo i luoghi. E così, per i vari lanifici della Val Seriana e Val Gandino, non venne mai a mancare la lana da lavorare, e commerci aumentavano il benessere della valle. Ora si trattava di portare le decine di migliaia di pecore su nei pascoli estivi e riportarle indietro a svernare. Una mulattiera che dalla Val Seriana, e con precisione da Nembro, raggiungeva la Valtellina, come vediamo da questa immagine, esisteva già, ed era quella della via Mercatorum. Ma un così gran numero di capi che si spostava l'avrebbe intasata di più. Allora per evitare erogne si preferì cercare un nuovo percorso. E il destino volle che da Parre, un sentiero che come la via Mercatorum attraversasse le Europie e raggiungeva la Valtellina, esisteva già. Ed ora grazie alle mappe satellitari della Google, lo percorreremo virtualmente insieme. Dalla foto vediamo il suo inizio a Parre, che poi raggiunge il paese di Premulo. E da lì, tagliando tutto a mezza costa della valle, arriva a Zambra Alta. Superato il monte Arera, raggiunge Roncobello. Ora, scavalcando il Torcole, arriviamo a Mezoldo. E poi, proseguendo, giungiamo al passo di San Marco, dove si incontrava con la via Mercatorum che veniva su da Averara. In questa immagine del passo San Marco, vediamo un gruppo di abitanti di Parre, che hanno voluto ripercorrere questo sentiero che i loro avi pastori dal paese li portava nei grigioni svizzeri a fare la stagione estiva con le loro greggi. E poi adesso, giù assieme ad Albaredo San Marco. E finalmente Morbegno in Valtellina. E la Svizzera è ormai vicina. Ora il sentiero punta verso Chiavenna. Ancora un ultimo sforzo, e siamo arrivati al passo dello Spluga, nella terra dei Grigioni. Giunti a questo punto, una parte proseguivano per i pascoli dei monti della città di Coira. Altri, invece, preferivano raggiungere il passo San Bernardino, e lì fare la stagione estiva. E nei momenti che non erano impegnati, come vediamo dalle foto, in un passaggio obbligato del passo di San Bernardino, dove le pecore transitavano una per volta, sulla roccia i pastori vi incidevano i loro cognomi. I palamini, i corneli, assieme a croci e preghiere, perché quelle non fanno mai male, in modo che la stagione andasse bene. Ed ecco spiegato anche il suo secondo nome, o il senter di scritture. Mentre per i pastori di Parre, il viaggio di andate e ritorno non gli creava problemi, perché ognuno di loro disponeva di un lasciapassare personale della durata di 50 anni. E questo diritto, per i suoi pastori, il comune di Parre lo aveva fatto molto tempo prima con tutti i comuni che i suoi pastori attraversavano per giungere in Svizzera. E l'ultimo fu ritrovato casualmente nel 1950, ed era del 1938. Intestato al pastore Casale Natale, fu Buonavventura, firmato dal podestà di allora Scainelli Alessandro. E ne fanno fede quattro testimoni. Per quelli degli altri paesi, invece, erano lacrime e sangue. E se venivano trovati a percorrerlo, rischiavano di prendere grandi bastonate. Allora, per evitare guai, dietro un compenso, affidavano le loro pecore ai pastori di Parre. E se le riprendevano quando erano giunte in Svizzera. E altrettanto facevano per il viaggio di ritorno. E così andava via tutto liscio. Passata la Val Seriana, sotto il dominio della Repubblica Serenissima di San Marco, spento ogni focolaio di guerriglia ed esiliati tutti i ghibellini, con alti e bassi, per colpa delle varie epidemie, compresa la famosa peste di manzoniana memoria, giunse per la valle il suo periodo più nero, che gli dimezzò addirittura gli abitanti, e per mezzo secolo ne bloccò lo sviluppo. Ma fortunatamente tutto passa. E superato anche questo momento, ora grazie all'avvento di nuove attività e mercati, poter riprendere la strada del progresso, iniziato molto tempo prima. Il parroco di Parre, tra il 1689 e il 1723, si trovava a corto di danari per ingrandire la chiesa, e vedendo sul sagrato dei pastori che parlavano degli ottimi affari fatti, chiese a loro se volevano contribuire. E questi, senza batter ciglio, gli risposero. Lei, signor parroco, domattina l'aspettiamo presso la fontana dove contiamo le pecore. E noi ci impegniamo a darle una svanzica per ogni capo che riuscirà a contare. E il parroco accettò. E qua purtroppo non mi tornano i conti con chi ha scritto il libro del sentiero dei Castrù. Nel 1600 e 1700, Bergamo faceva parte della Serenissima Repubblica di San Marco. E la moneta corrente era il Ducato o lo Zecchino. E non la svanzica. Perché questa moneta abbia corso legale anche in Bergamasca, bisogna aspettare che cada la Repubblica di Venezia nel 1797 per l'invasione di Napoleone. E che si instauri nel 1815 il regno del Lombardo Veneto. L'indomani mattina il parroco si presentò sul luogo indicato dove le pecore erano costrette a passare una alla volta per contare quanti capi conteneva con precisione ogni greggio che partiva per gli alpeggi estivi e quanti erano quando tornavano. E il parroco ne contò più di 30.000 e con il compenso dato dai pastori potè ampliare la sua chiesa. E così stiamo per arrivare alla fine anche di questo video. Nei primi decenni del 1700 le pecore dei pastori di Parre raggiunsero il loro numero massimo. Un anno più di 60.000 capi compreso gli agnelli nati durante l'inverno erano pronti a partire per gli alpeggi estivi ma dal 1740 al 47 a causa di un'epidemia chiamata in dialetto la Marsera il loro numero scese a sole 22.000 capi e si ridussero nel 1800 a 10.000 unità. Attualmente si sono ridotti ancora a poche migliaia e che portano avanti la pastorizia sono rimasti in tutto 4 o 5 pastori un grazie anche a Gilberto di Parre per avermi suggerito la storia dei pastori del suo paese e avermi procurato tutte le informazioni e le foto dei suoi amici per la realizzazione del video e dei siti internet che vediamo i loro loghi per le foto scaricate e o o o o o o o Grazie a tutti